Poco meno di due mesi fa vi avevamo offerto un'ampia panoramica su Deus Ex Mankind Divided, ultimo capitolo della fortunata saga Square Enix in arrivo sulle maggiori piattaforme il prossimo 23 agosto. Desiderosi di scavare più a fondo nelle meccaniche di gioco, ci siamo recati negli uffici di Koch Media Milano per una lunga e approfondita sessione di gameplay in compagnia degli sviluppatori, dove abbiamo passato un intero pomeriggio con la nuova avventura di Adam Jensen. Le nostre prime impressioni? Ottime, anche se qualche piccolo difetto ancora persiste. La storia di Deus Ex Mankind Divided riprenderà due anni dopo la conclusione di Deus Ex Human Revolution, nel 2029 più precisamente. Il mondo sarà a questo punto spaccato letteralmente in due. Da una parte troveremo una fazione pronta ad accettare i nesti cibernetici sul corpo umano, mentre dall'altra integralisti convinti che ogni modifica non naturale debba essere evitata e che la Augmented vada repressa con tutte le forze. La situazione politica e quella militare non sono quindi delle più rose e i focolai di rivolta esplodono continuamente in ogni parte del mondo. Ad alzare ulteriormente il livello di tensione ci si mettono anche dei gruppi terroristici organizzati, nati dopo un apartheid resosi necessario quando un virus ha completamente mandato fuori controllo tutti gli innesti robotici. Adam Jensen si troverà coinvolto in una guerra su scala globale e dovrà fare affidamento a tutte le sue doti investigative per venire a capo di una trama che, ad ogni passo, si fa sempre più intricata ed interessante. Come sempre il dinamismo del racconto sarà uno degli elementi di spicco di Deus Ex. La narrazione, che segue un'evoluzione non lineare, muta e si piega di fronte alle scelte del giocatore, libero di trovare la soluzione alle situazioni proposte nel modo che ritiene più opportuno. Questa si riflette anche sul gameplay, che ci si voglia dedicare ad azioni stealth per limitare al massimo le vittime o avanzare facendo terra bruciata accanto a noi, il titolo troverà sempre il modo di far progredire il giocatore, lasciandogli una libertà e un controllo davvero eccellenti. Tornano in Mankind Divided tutti gli elementi chiave di Human Revolution, dalla risoluzione di semplici enibbi ambientali, passando ovviamente per dialoghi articolati e risposta multipla, fino ad arrivare a minigiochi per l'hacking, che non solo vi serviranno per sbloccare porte o recuperare oggetti rare e preziosi, ma altresì per entrare in possesso di informazioni aggiuntive sulla missione, che potrebbero addirittura cambiare intere linee di dialogo ed offrirvi ulteriori risposte a quelle già previste. Ci troveremo quindi immersi in un ecosistema vivo e credibile, che rende questo Mankind Divided un vero gioiellino sia per gli amati dell'esplorazione, così come per i completisti, che potranno passare ore e ore in ogni singola zona alla ricerca di tutti i risvolti più impensabili della trama. Il dialogo non sarà ovviamente l'unica arma a nostra disposizione, ma gli innesti installati all'interno del nostro corpo ci permetteranno di avvalerci di vantaggi incredibili nell'esplorazione. Filtri nei polmoni ci garantiranno la possibilità di respirare aria contaminata, e uno speciale sistema di riflessione della luce sarà addirittura in grado di renderci invisibili per passare inosservati davanti alle guardie. Se quindi le fasi stealth si rivelano complesse e intricate, non poteva essere da meno l'approccio diretto ad armi spianate, che abbiamo trovato però forse ancora troppo lacunoso. La produzione vi permette di estrarre un fucile e abbattere ogni resistenza, ma è chiaro che non sia questo il suo obiettivo. Uccidendo nei pc e guardie, il gioco semplicemente perde gran parte della sua magia e della sua profondità, e sebbene possa essere completato senza alcun problema, quantomeno per le missioni da noi affrontate, smarrisce quell'atmosfera incredibile che un approccio stealth riesce invece addirittura ad amplificare. L'intelligenza artificiale non ci è sembrata ancora sistemata a dovere, e le lacune messe in evidenza erano piuttosto palesi. Fin troppo facile aggirare le truppe avversarie e colpire di spalle, con i nemici che si limitano semplicemente a nascondersi e spararci da dietro le coperture. Tutto al sistema che sorregge il gameplay invece è stato rifinito e perfezionato, partendo ovviamente dalla gestione dei talenti di Adam e dalla modifica delle bocche da fuoco. Il nostro protagonista potrà fare affidamento su molteplici elementi per uscire dalle situazioni più concitate, sfruttando i suoi moduli di hacking per disabilitare dalla distanza eventuali allarmi o telecamere, e ovviamente facendo sfoggio di tutta una serie di nuovi aug per eliminare i nemici più velocemente. Tornerò anche i takedown corpo a corpo, grazie ai quali stordire gli avversari o eliminarli in via permanente con le lame innestate nelle braccia di Adam, così come la gestione immutata delle coperture, funzionali quanto basta per permettere ai giocatori di sfruttarle a dovere. In tutto questo manca forse maggior fluidità, mancano passaggi veloci tra la telecamera in prima persona e le killcam sull'uccisione in corpo a corpo, per un'azione che potrebbe essere molto più veloce e con ritmi molto più frenetici rispetto a quanto proposto da Square Enix. Deus Ex Mankind Divided è l'evoluzione naturale di Human Revolution, e porta in dotte tantissime migliorie sia dal punto di vista tecnico che dal gameplay. Ad impressionarci più di tutto è stata la cura e la profondità della narrazione, elemento che riesce ad avvolgere completamente il giocatore e a farlo sentire parte di un mondo vivo e carico di mille sfaccettature, per quanto visto siamo di fronte a un racconto cyberpunk di altissimo livello, che speriamo riesca ad esplodere ulteriormente durante l'avventura. Grazie. Grazie. Grazie.